Dopo l'intermezzo d'Overlook che ci ha fatto conquistare lo scudo leggendario The Cradle, possiamo riprendere la missione della guerra tra i clan nel Dust. Eccoci qui al campo degli Hodunk, come in tutte le missioni secondarie che non fanno parte del playthrough principale, ma che siano comunque interessanti, velocizzo. Anche perché quando c'è di mezzo una leggendaria, come in questo caso, trovate tutto sulla relativa playlist. In pentola c'è da servire la vendetta degli Zafor, cioè andare alla pista degli Hodunk e minarla. In cima alla scala si va direttamente sulla pista e qui i punti in cui piazzare la dinamite sono evidentissimi. Il guardiano pensa che stiamo controllando per i fuochi d'artificio e in un certo senso ha ragione. Niente testimoni. Qui al detonatore. Tra un po' arriveranno le auto, dietro con la curva sulla sinistra. Eccole. Sono tre. Tra pochi secondi arriveranno sul ponte. Aspettate che siano tutte e tre sul ponte, più o meno quando la prima delle auto sarà arrivata vicino alle ultime casse. In questo modo dovreste riuscire, ecco, tutte e tre, ora, a farle fuori di un colpo. Si torna a consegnare da Ellie. La ricompensa è appena al di sopra del livello vomito. Ma niente fretta. Ci penserà Hodunk ad alzare la posta e si spera, prima o poi, anche la ricompensa. Eccolo lì sulla sua carrozzina, il vecchio Jimbo. Ci manda per l'ennesima volta all'Holy Spirit, la tana degli Zafor. Teletrasportiamoci rapidamente. Siamo già all'interno di Holy Spirit, sono salito sulle scale e lì, sotto un banco, ho trovato molto facilmente questo eco. Sicuramente avrete adocchiato sulla scheda della missione che la ricompensa in oggetto blu. Dobbiamo pedinare uno dei figli di Zafor che ci porterà al loro forziere nascosto. Un'area piena zeppa di casse stracolme di dollari. Nel farlo non avvicinatevi troppo, aspettate sempre guardando la minimappa. Se lui è fermo non avvicinatevi, ora sbaglio a posto. Mi avvicino, lui si accorgerà di me e la missione fallirà. Mi tocca ricominciare, andare a ritrovare l'eco e così via. Questa volta aspetterò che sia lui a muoversi. Ecco, è iniziato. Sta scendendo da qualche parte, come indicato alla freccetta, direi che ci possiamo muovere anche noi. Il pedinamento non offre nulla di interessante. Arrivati in fondo, preparatevi ad affrontare il corriere. Occhio perché ha un'abilità particolare che è quella di poter sparire, tipo colletto. E qui sicuramente il blocco di fase sarà di grosso aiuto. Diversamente potreste aiutarvi con una granata homing, se ce l'avete, che va a ricercare automaticamente i nemici, per capire da che parte è ricomparso il mister corriere, che fu. Beccatevi la chiave, altrimenti sarà molto difficile tornare indietro. Poi, se volete, saccheggiate l'area. E' piena zeppa, beh, una decina di casse come questa. A saccheggio terminato, usate qui la chiave per attivare la pedana e tornarvene all'Holly Spirit. Subito c'è anche una cassa DAL che, nel mio caso, mi ha regalato un oggettino niente male, come vedrete in seguito. Questo Slippery Root, oggetto blu, spara delle granate con una velocità davvero notevole e una buona precisione. Ovviamente si torna da Jimbo, nel Dust, e anche qui ci aspetta un altro oggetto blu, però unico. Questo Onary Triquetra. Consumone, tre proiettili per sparo, ma questo vuol dire anche poi infliggere un bel danno. Ha una caratteristica particolare anche nella rosa dei suoi proiettili. Io mi sono dimenticato di provare, fatelo voi. Sparando va a formare, che cosa? Il simbolo del nodo trifogliato. Mettetevi a sparare a ripetizione contro una parete, contro una roccia, e dovrebbe appunto formarsi quel pattern. Molto veloce nella ricarica, e anche nello sparare, pare una buona arma per Gage e la sua anarchia. Se vi va di fare un po' di farming, mettendolo in pratica con il trucco del salvataggio della partita, come ho spiegato nella playlist per principianti, ma anche in altri video, potreste tentare di ottenere la variante più incredibile. La Rastler, che spara addirittura 21 proiettili per sparo. Incredibile. Tocca gli Zafford a replicare. Dovemmo incontrare un loro emissario qui, all'ingresso del Highlands. Vicino anche al treno per l'Inchwood. Come purtroppo spesso accade, sangue chiama ancora più sangue. La risposta è, bruciare vivi quanti più Hodum possibile. Su alcune roulotte, o a fianco di esse, troverete un bel bombolone da aprire, e poi accendere il fuocarello, please, ovviamente con un'arma infuocata. La tinderbox, oggetto blu unico, va benone. Non chiederò scusa per questo. Se fai la guerra, la fai per vincere. Significa no. Preparati tutti gli spiedini, si torna da Steve per la consegna. E anche per questa missione, purtroppo, la ricompensa grida vendetta. Ma per quella degli Hodung, la ricompensa, invece, sarà un altro oggetto blu unico. Dovremmo fare una piccola strage alla loro veglia annuale, però, per entrare all'Holly Spirit, dovremo essere completamente sbronzi. Si va, quindi, al bar di Moxie, per acquistare tre bei caraffoni di birra. E solo, hick, dopo, hick, si potrà andare all'Holly Spirit. Così, conci, non avremo problemi a farci accettare. Entrate all'Holly Spirit, secondo me conviene salire le scale, perché dall'alto è più facile controllare e fare, appunto, una strage. Andateci pesante con le granate, ad esempio. Faster Flak, oggetto blu unico. Guardate, con due lanci di granate ho messo sotto scoria, praticamente, l'intero Holy Spirit. E si torna ancora da Ellie per la ricompensa, che sarà doppia, due oggetti blu unici. Col trucchetto del salvataggio della partita, si può tentare poi di prenderli tutti e due. Andatevi a vedere le mie playlist per principianti, per vedere come si fa. Gli oggetti sono l'Equitas e il Veritas. Uno è una pistola e l'altro uno scudo. Comunque, la pistola non è nulla di che. Lo scudo è, invece, interessante. È un cosiddetto oggetto di squadra, nel senso che per ogni componente del vostro team in co-op che lo indosserà, beh, aumenterà la durata di lotta per la vita per tutti. Siamo alla resa dei conti definitiva. E questa volta, avete visto la scheda ricompensa, la doppia possibilità brucia, nel senso che entrambi gli oggetti, uno secondo me è nettamente più interessante, però anche l'altro ha una sua particolarità che vale la pena, almeno per divertirsi, di provare. Quindi, qui, veramente, salverei proprio al momento dello scontro la partita, per poi riprendermi il salvataggio e l'altro oggetto. Il duello si svolgerà alla stazione per l'Inchwood. Dovete scegliere. Parteggiare per il Zafford, oppure per gli Odunk. In quest'ultimo caso, che è quello che scelgo, e ho sbagliato, riceverete il Landscaper. Un shotgun interessante, ma nulla di che. Invece, parteggiando per gli Zafford, e quindi facendo fuori gli Odunk, riceverete il Chulani, che è un'arma molto particolare, interessante, soprattutto per Gage. Ma la scelta tra Zafford e Odunk deciderà anche per quale arma leggendaria potrete poi fare il farm, sempre contro gli stessi nemici, ovviamente. Parteggiando per gli Zafford, avrete la possibilità di farmare la pistola leggendaria Meiji, decisamente potente, soprattutto nella sua versione 2-Fair Meiji. L'ho provato con Salvador, ed è veramente un'ammazza 7. Pardeggiando invece per gli Zafford, e uccidendo ripetutamente il leader degli Odunk, potrete invece farmare la mitraglietta Slagga, dal enorme potere Scoria. E già che ci siete, non dimenticatevi della cassa che c'è sotto le scale. Quella dove sto andando ora. Andiamo intanto a consegnare per l'oggetto blu unico. Almeno, la coppia Jim e Tector è di quelle che va ricordata. Fantastico. Becchiamoci sto Landscaper Mom. Qual è la caratteristica dell'arma? Intanto sto ricominciando dopo aver salvato e se rientrato il fargo. E, intanto che ci sono, cerco sempre di trovare qualche versione nuova della Gwyn's Head. Sono stato fortunato questa volta subito qui al garage di Ellie. Il Landscaper è un'arma da goato o da ritirata. Magari quando si gioca in co-op qualcuno distrae i nemici e voi con il Landscaper preparate un bel trappolone. Spara praticamente delle granate che si possono anche appiccicare al terreno o su una superficie verticale. Dopo un po' esplodono. Beh, insomma. Non è un'arma facilissima, però aggiunge qualcosa di diverso al solito modo di giocare. E quando riuscite a piazzare bene le granate possono veramente poi infliggere un grosso danno. Detto questo, l'ho provato un pochino ma non è che mi piaccia. Non è che mi abbia esaltato, devo essere sincero. Inizio un minimo di farming. Qui a Lynchwood, o meglio alla stazione per il treno per Lynchwood, conviene proprio accedere a Lynchwood, salvare lì, così che poi rientrando nel gioco per riprovarci si ripartirà subito da questa zona. Senza il pezzo quindi dal garage di Ellie fino qui. Inoltre, se non potete rigenerare le munizioni come Salvador, a Lynchwood troverete anche i distributori automatici. Dai, riproviamoci almeno una seconda volta. Anche perché sono costretto. Uscendo in quest'area mi ritrovo subito addosso. E allora? Meglio concentrarsi su uno scagnozzo, che è già praticamente morto, e poi finire Mr. Zafot. E lei è la Maggi. Diamo un'occhiata alla scheda. È ottima a breve media distanza, perché poi la rosa dei proiettili si allarga un po' troppo. È praticamente uno shotgun veloce. Può veramente fare parecchio danno. Soprattutto, come dicevo prima, se riuscirete a ottenerla, con un po' di farmi, nella versione Too Fair. Soddisfatto, sono andato a Nanna. Il giorno dopo sono rientrato. Mi sono ritrovato qua ad uccidere, ovviamente, ancora, Mr. Zafot. E vabbè, non ho fatto partire il registratore. Peccato, perché... Eh, seconda Maggi. Una dopo l'altra. Veramente notevole. Finisco qui, altrimenti non ce la faccio a pubblicare entro mezzanotte, oltre schiatterei. Ma il farming nel Dust continua, c'è ancora una missione, e poi più là nel gioco ancora un'ultima. E completeremo quello che è chiamato il giro del Dust, come farming. E non trascureremo di fare anche un po' di farming al fridge. A risentirci. A risentirci. A risentirci. A risentirci. Grazie a tutti.